...i confronti della sindaca Raggi indagata per abuso d'ufficio, la sindaca Estania ha infatti il commento... Estania ha infatti, però Parnasi è in galera, è stato. Il verbale che dà il via libera al progetto del nuovo stadio, il mancato passaggio, il consiglio comunale e le procedure amministrative, sono i tre punti su cui la giudice delle indagini preliminari, Costantino De Robbio, chiede alla Procura ulteriori approfondimenti respingendo la richiesta di archiviazione presentata dagli stessi magistrati romani. Nuove indagini sul sindaco della capitale Virginia Raggi, il cui nome resta iscritto nel registro degli indagati. Abuso d'ufficio, reato ipotizzato, l'inchiesta è partita da un esposto presentato da un ex attivista 5 Stelle, l'architetto Francesco Sambitto, secondo il quale l'iter che ha portato alla pubblicazione del verbale della conferenza dei servizi, avrebbe saltato un passaggio, quello della storia Capitolina, una violazione, secondo quanto riportato nell'esposto, che avrebbe favorito il costruttore Luca Parnasi, arrestato nel giugno 2 Stelle, ma l'intero che la Procura aveva già esaminato senza ravvisare violazioni penali, adesso i PM avranno altri 60 giorni di tempo per indagare. Virginia Raggi estranea i fatti il commento dei legali della prima cittadina che spiegano l'iter fu sospeso dopo l'arresto di Parnasi per consentire a tutti di poter fare le proprie valutazioni.